Le modifiche ai decreti sicurezza oggi ha altro vertice al viminale fra il ministro Lamorgese e gli esponenti della maggioranza. Un nuovo confronto è fissato per giovedì 9 luglio e le politiche sull'immigrazione sono state al centro oggi anche dell'audizione del ministro dell'interno al comitato Schengen. Il servizio di Fabrizio Strafile. Definire nuove regole ispirate al principio di solidarietà tra paesi che preveda un meccanismo di ricollocamento obbligatorio tra i 27 stati dell'Unione. Lo ha detto il ministro dell'interno Luciano Lamorgese in audizione al comitato Schengen alla Camera. Il ministro ha osservato se non c'è Europa non c'è solidarietà. Ricordo ha aggiunto che la nuova commissione europea ha annunciato una riforma del sistema comune di asilo e si appresta a pubblicare un nuovo patto sull'immigrazione. Risultano attive, ma ancora oggi, 10 strutture di prima accoglienza e 4.963 strutture di accoglienza temporanea e casse che registra una complessiva presenza di 62.613 persone. Una diminuzione rispetto al medesimo periodo del 2019 sia con riferimento alle strutture perché abbiamo un meno 33% sia con riferimento ai migranti ospitati perché abbiamo un meno il 26%. Il ministro ha poi spiegato che fin da febbraio è stata disposta la misura della quarantena per tutti coloro che arrivano sul territorio non solo per gli arrivi via mare ma anche terrestri. Ed ha aggiunto sul tema dell'immigrazione abbiamo fornito idee proposte con l'obiettivo di superare il principio di irresponsabilità del paese di primo approdo e promuovere regole per gli stati bandiera alle quali dovrebbero ottenersi le navi private che svolgono attività di salvataggio nel Mediterraneo. È tutto TG Parlamento.